Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Albano Carrisi, il celebre cantante di Cellino San Marco, nutre un'appassionata devozione per il mondo dello spettacolo. Non sorprende, pertanto, vederlo spesso protagonista di apparizioni televisive, come quella più recente al programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. In questa particolare occasione, Albano si è presentato radiante e snellito, indossando i suoi iconici jeans e il caratteristico cappello che raramente si toglie. Durante l'intervista, ha sottolineato il legame profondo con le sue radici contadine, affermando che è stata proprio la tempra contadina a salvarlo. La vita nel mondo dello spettacolo, come è ben noto, non è sempre agevole, ma Albano ha trovato forza e determinazione nelle sue umili origini. Tuttavia, ciò che ha toccato profondamente il cuore dei telespettatori è stato il momento in cui Silvia Toffanin ha presentato una clip di Romina Power, l'ex moglie di Albano. Nel video, Romina parlava con affetto del rapporto speciale che aveva con la madre di Albano, un legame descritto come quello tra madre e figlia. Le parole di Romina e i ricordi evocati dal video hanno portato Albano alle soglie delle sue emozioni. Le telecamere hanno catturato il momento in cui, visibilmente commosso, ha lottato per trattenere le lacrime. Condividendo apertamente con il pubblico i suoi sentimenti di perdita, tristezza e resilienza di fronte alle sfide della vita, il momento più toccante è arrivato quando Albano ha parlato della sua relazione con Romina. Ha rivelato che non avrebbe mai immaginato che lei avrebbe lasciato Cellino San Marco. Sebbene il loro amore romantico possa appartenere al passato, è evidente che il dolore e la sorpresa di quella separazione lo hanno profondamente segnato. Concludendo i suoi pensieri su Romina, Albano ha dichiarato che solo lei conosce il motivo, e così le loro vite si sono separate. Questa intervista ha offerto uno sguardo profondo e personale nella vita di Albano, rivelando le sue passioni, le sfide affrontate e i legami che hanno contribuito a formare l'artista e l'uomo che è oggi. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.